Lì ci sono marito e moglie, che marito gli fa? Stasera si fa qualcosa di strano, si va su un sito porno, così ci si eccita, la moglie gli fa buona idea, dai forza andiamo, digitano un sito porno e la moglie gli fa bisogna creare un account, dice va bene mettigli un nome, poi dice password, che password gli metto? Mettigli pene, la moglie scrive pene dice ma ti conosca su questo sito perché c'è scritto password non abbastanza lunga.